Ciao ragazzi! Ciao! Benvenuti in questo nuovo video! Oggi faremo una cosa creativa Vero Alissa? Sì! Era da tanti giorni che Alissa lo voleva fare E lo chiedevo pure adesso Mamma, quando lo facciamo? Mamma, lo facciamo? E adesso lo facciamo Abbiamo qui sei principesse Con i loro bellissimi vestiti E oggi faremo un esperimento creativo Infatti proveremo a rendere glitter i loro vestiti Abbiamo qui i glitter dots di Crayola Che sono delle palline glitterose Un po' appiccicose Che servono a personalizzare in maniera glitter Quello che vogliamo senza sporcarci E senza fare nuvole di glitter che vanno da tutte le parti Almeno così dovrebbe essere Adesso noi li proveremo Proveremo a trasformare in glitter i loro vestiti E vediamo che cosa succede Sì, dai, apriamo Vai Però il mio dubbio è questo Si attaccheranno sulla plastica? Secondo me sì, dai Sembra una confezione di pastiglie Invece sono tutti glitter Ok, proviamo intanto il giallo Abbiamo iniziato a personalizzare Biancaneve E una parte del suo vestito è già diventato glitteroso Wow, una gonna tutta dorata Adesso provo a personalizzarle anche la parte sopra Wow, Biancaneve Bellissimo il tuo vestito Oh, vorrei anche io avere qualcosa di glitterato Magari il mio cerchietto Sì, si può fare Si può fare, si può fare Ci proviamo Ecco qui Oh, anch'io voglio un accessorio glitter E possiamo fare i capelli Qualche ciocchetta dei capelli? Sì Ok Prendiamo il rosso e facciamo una ciocchetta per Ariel Ecco qua Ciuffetto glitter Che ne dici, Ali? Sì E guarda Vediamo la tua Minnie Oh, bellissima Io voglio fare lei Ok, tu fai un dettaglio a Belle Potresti farle quell'accetto che ha intorno ai capelli Farlo diventare proprio brillante Ok, proviamo a rendere più luminoso anche il vestito di Rapunzel Wow, Alice ha creato una versione arcobaleno Oh, ma l'hai fatto il cerchietto Sì, e l'hai fatto anche trasformare in cuffie Invece, il vestito di Rapunzel è pronto Ecco qua Adesso resta soltanto Alice Guarda, l'ho trasformata in cuffie Vero, bella Oh no, ho finito l'arancione Quindi la testa resterà così Un po' a metà Comunque, ragazzi Sono venute carine, dai Beh ragazzi, non so adesso Alissa cosa creerà Io però la lascio giocare e divertirsi tranquilla Speriamo che questo video vi sia piaciuto Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ho finito Ma cos'è? È una cosa strana Ok, allora prima di salutarvi ammirate la cosa strana di Alissa Un'opera d'arte moderna Veramente eccezionale, guarda Per acquistarla 2 milioni di euro all'asta Ops, l'ho rotta Adesso non vale più niente Alissa, ho appena rotto una cosa da 2 milioni di euro Disperata Oh oh, l'ho combinata grossa Ho distrutto l'opera d'arte di una famosa artista Ah, sto peggiorando la situazione Ragazzi, io scappo Io scappo prima che torna Ciao a tutti Ciao dalle principesse Ciao È tornata Aiuto Ho detto ancora di più No, non sono stata io Vabbè, io devo scappare Ciao a tutti Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti